Polemiche verso gli amministratori del comune di Agropoli degli operatori turistici dell'associazione Vivi Cilento dopo la delibera di giunta numero 83 del 21 marzo 2019, tema i proventi dell'imposta di soggiorno e relativa destinazione dei fondi, in primis sulla somma ufficiale raccolta dal comune dove il presidente di Vivi Cilento Emanuel Ruocco scrive per l'anno 2019 e quindi per i mesi in cui si paga l'imposta di soggiorno, giugno, luglio, agosto e settembre, si prevede un'entrata complessiva di 120.000 euro da essa derivanti, quindi in sostanza un aumento del 50% rispetto al 2018 dove erano previsti 80.000 euro, poi riprevisti 100.000 per poi essere realmente circa 83.000 euro, tralasciando la gestione di quanto raccolto nel 2018 continua a Ruocco. In sostanza poco o nulla di concreto e tangibile per gli imprenditori turistici, nel 2019 i 120.000 euro saranno così ripartiti, 71.460 euro per Vivi Agropoli, 40.000 euro per i servizi salvataggio sulle spiagge e 8.540 euro per acquisto beni e servizi per Vivi Agropoli Turismo. Ora mi chiedo, c'era bisogno dell'imposta di soggiorno per pagare il servizio di salvataggio, ovvero fino al 2017, come è stato pagato? L'imposta di soggiorno, così come prevista dall'articolo 4 del decreto legislativo numero 23 del 14 marzo 2011 alla lettera B recita, previsto che il gettito derivante dall'imposta di soggiorno sia destinato a finanziare interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, quali eventi hanno davvero riportato benefici sulla ricettività agropolese? Ma perché non essere più concreti e magari pensare alle pensiline per la sosta dei bus? Perché non pensare ad ampliare le corse dei bus cittadini anche nelle domeniche da giugno a settembre? Ma perché gli imprenditori turistici non possono in concreto esprimere e proporre idee sul come utilizzare almeno il 50% di quanto fatto incassare al comune grazie alle loro capacità imprenditoriali? Infine, l'affermazione del presidente di Vivi Cilento. Le risposte eventuali saranno nelle azioni concrete e non nelle chiacchiere ed opportunità.